e benvenuti in questo video di mister white benvenuti grazie grazie siamo qui insieme a papateo il grandissimo papateo e blagun non è grandissimo e sicuramente lei è un po' più altino di blagun e anche un po' più alticcio perchè vuol dire alticcio tipo un pochino brifo mister brifo allora siamo qui per fare il post it game abbiamo poco fa fatto con blagun però ci è piaciuto perchè non lo facciamo per tutti quanti a giro ce lo facciamo dobbiamo scrivere il nome di uno youtuber sul post it e attaccarlo a un altro di noi l'altro dovrà fare delle domande per scoprire qual è il nome che è stato scritto nel suo post it e tutto quanto al giro per citare l'amico marco let's go ci sono apparsi sulla testa direttamente i pop up i pop up cominciò io pop up pateo lo scriviamo ooooooooo ok faccio la prima domanda sono una donna? no e che cazzo io sono un uomo si sono gay? no ok perché ho fatto la domanda più stupida? hai fatto una donna critica io sei una donna sei un uomo? sono gay sono del nord? no io sono del sud? no io sono un uomo? sono indietro delle domande mi occupo di gameplay? no io faccio video divertenti? si mi occupo di cucina? parlo di videogiochi? no sono un cazzone? si assolutamente si sono del sud Italia? si sul si sul si sono del sud Italia? ti voglio la domanda si sono famoso? eh sì relativamente si sono siciliano no rientro tra i comici? si io conosco questa non lo so io non lo conosco volevo dire se la conoscevo di persona ah se la conosci di persona? o comunque mi sa di noi no io lo conosco da c'è il mio dove l'hai conosciuto? ma tu dici così in generale? no non mi conosco di persona ah no non credo te lo sappiamo dire per certo vabbè perchè non tutto ho pronunciato all'interno cioè non possiamo sapere se tu lo conosci la fisarmonica faccio quei cazzo di esperimenti sociali? no no ragazzi io? tu? mi faccio? una sottospecie? questa è una bella domanda copiata da me ahahah faccio dei play io? le hai fatti? mi preoccupi di averli fatti? sono un big nel senso che ho più di 100 mila iscritti no sono canto? no e se ci provi ti sparano ahahah quindi mi sa che sono napoletano non ricordo che si è chiesto e chi è dimenticato qualcosa? è bella la simmetria delle gambe mie di Matteo oh faccio parodie? si si ho fatto tante collaborazioni? no non moltissime sono pugliese si sono papadeo si l'avevo intuito l'avevo intuito che tristezza che tristezza che tristezza essere se stessi è proprio triste e io però cosa dicevo una volta? eh che è meglio essere se stessi che essere un altro con con il culo spanato mi pare ahahahahahahah cosa è che ti dicevo? non lo so eh allora ragazzi avevo fatto un video sulle batterie sono da solo? nel canale? no deve fare le domande a lui perché non lo conosco tantissimo no neanche marco merino lavora da solo si ma non è un canale tipo di gruppo questo non è un canale tipo di gruppo ah no no non è un canale tipo sono uno dei Nilkjop? no però sei abbastanza scemo da poterlo adesso tu come tu ciao Mirko è così comodo è così comodo io non ho davvero idea allora fa prank ma ma non sono proprio prank non sono proprio prank è un cazzone se mi fa un cazzista no sono uno dei frenchmoll? no non so più olti pugliesi ma tu ti sei comodo che sei pugliese? mi hai detto che sei del sud ma ho detto di si mi hai detto che sono pugliese ho detto che ho chiesto ma ho detto di si no no ok sono del nord si vive in pugno o il nord adesso? eh no ce la puoi fare Widers dai Widers crediamo in te e anche nel cuore di Naruto è su scarse? no sono il signor oscuro? si ooooooooooooooooo tu hai perso perchè sei uno stronzo lo sappiamo che avresti perso però lui te l'ha inquilato tantissimo perchè ehi qui sai che è più del nord se non eri il signor oscuro no 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 tu devi devi indovinare ancora c'è io vuoi vedere che tipo poi alla fine non lo conosco se non lo conosci vado a buttare tutto il video facciamo una cosa diamogli un suggerimento ciascuno per una cosa che sappiamo fare una cosa che potrebbero potrebbero non aiutarlo potrebbe essere come potrebbero esatto e il mio suggerimento è che conoscessimo metarca conoscessimo metarca e sposate con l'uomo focaccio ah che sei? al cedo? la miseria al cedo video vuol po' riuscire ma io al cedo tipo non l'ho mai visto anche se so chi è salutiamo al cedo cioè ciao al cedo che so che non ci sei e va bene ragazzi ho perso come lo stroili guai te però ci sei arrivato alla fine alla fine alla fine noi ha perso il suo video ora dovremo far perdere papatello e quindi tocca a me vincere forse esatto se no c'è vincere prima ce l'hai fatta comunque eh dai love is san monica iscrivetevi ai loro canali vabbè si basta così si abbiamo finito il video questo praticamente sarà non Grazie a tutti Grazie a tutti